Ci sono individui all'apparenza normali, in grado di fare cose inimmaginabili. Persone all'apparenza come noi, come voi, che passano la vita a compiere atti atroci senza che nessuno si accorga di loro. La storia di Anatoly Naghev rispecchia in pieno questo tipo di stereotipo. Io sono Arianna e vi trovate sul canale True Crime che tratta dell'atto più oscuro della nostra società. Io sono Selena e Rubrica Notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta neppure per difendersi. Io sono Silvia, benvenuti in Rubrica Notturna. Oggi tocca a uno di voi annunciare la sigla. Ciao ragazzi, sono Carla, questa piccola qui è la mia cagnolina, si chiama Samantha. Ed entrambi vi mandiamo tutto il nostro cuore dal Sud America. E amiamo Rubrica Notturna ovviamente, quindi sigla. Ciao! In una notte del 4 luglio del 1980, nel cuore dell'Unione Sovietica, un silenzio inorridito polmerà la stazione ferroviaria di Kursk. Il treno in partenza dalla città di Arakow e diretto a Mosca entrerà nella stazione dove la polizia effettuerà proprio un'ispezione delle carrozze del treno. Una procedura di routine che permetterà agli agenti di controllare all'interno di ogni carrozza. Gli ufficiali addetti al controllo, tuttavia, non erano di certo preparati a quello che avrebbero trovato al suo interno. Una carrozza, infatti, aveva le porte chiuse. Era come se nascondesse un segreto. Gli ufficiali stavano facendo solo il loro lavoro quando forzeranno le porte per potervi accedere. E quando lo faranno, quello che troveranno davanti li scioccherà. I pavimenti e le pareti erano completamente inzuppati di sangue. Era evidente che al suo interno fosse avvenuto una violenza inaudita. Ma di confronti di chi? I passeggeri che si erano riuniti tutti da una parte, appreso di quell'orrore, inizieranno a scappare terrorizzati. I corpi di quattro donne senza vita saranno poi trovati gettati come spazzatura sui binari a miglia di distanza. Quello che era dunque successo nel vagone numero 7 ha cominciato a svelarsi poco a poco nel corso delle indagini. Qualcuno aveva eseguito quelle esecuzioni e questo voleva dire una sola cosa. Ovvero che c'era un serial killer che girava a piede libero. Tra i tanti killer che hanno terrorizzato l'era sovietica vennerà uno che aveva lasciato il suo segno in maniera davvero particolare. Il suo nome è Anatoly Nagyev. Pare avesse una tale forza quest'uomo da arrivare addirittura a frantumare le manette che lo tenevano legato. Ma davvero? Sì. Ma conosciamo meglio a questo punto questo uomo. Anatoly nasce il 26 di gennaio del 1958 ad Angarsh in una famiglia del Dagestan. Saranno delle pronunce tremende? Sicuramente. Ci perdoneranno. Sì perché poi è russo insomma. Già facciamo pena con quelle americane. Comunque. Alla tenera età di 5 anni con la sua famiglia. Anatoly si trasferirà in un villaggio nella regione di Kursk. Ed è qui che i suoi genitori si lasceranno. Tanto che la madre di Anatoly si ritroverà da sola a badare da sola appunto ai suoi tre figli. Per Anatoly non sarà dunque un'infanzia felice. Con i padri non riuscirà mai ad avere un buon rapporto. Aveva anche difficoltà a relazionarsi con gli altri ragazzi. Tanto che passava la maggior parte del suo tempo a litigare e a lottare per strada con loro. La madre appunto con questo momento per cercare di sistemare quel ragazzino così vivace, con la testa così dura e turbolento in qualche modo deciderà di mandarlo in un collegio dal quale però Anatoly scapperà più di una volta. Ma per quanto andasse male a scuola e di come poco gli importasse dell'istruzione, dall'altra Nagyyev diventerà un grande fan della palestra, tanto da diventare muscoloso e con una importante prestanza fisica. C'è da preoccuparsi? Se uno diventa con una buona prestanza fisica abbiamo già visto un altro caso. Se hai la testa che hanno loro. Quale caso? Chris Watts, anche lui era un po' sovrappeso, con una scarsa autostima, alla fine ha fatto un bel po' di palestra, si è fatto il pisicaccio. Poi ha fatto quello che ha fatto. Ovviamente conoscete il caso, ma se siete curiosi di vedere il nostro racconto di questa terribile vicenda, lo lasciamo qua, nei suggerimenti. Comunque dicevamo che Nagyyev Anatoly inizierà a frequentare assiduamente la palestra e a crearsi un'importante prestanza fisica. Questa sua forza diventerà anche un'abilità, però impiegata male. Sì, nei combattimenti contro gli altri ragazzi della sua età. E non solo, anche con persone più grandi di lui. Insomma, per Anatoly il combattimento diventerà una valvola di sfogo. Era un modo per farsi valere perché pare soffrisse per la sua bassa statura e in qualche modo cercherà di sopperire quella mancanza. Come? Utilizzando la sua forza contro gli altri. In più Anatoly inizierà a sognare di poter entrare nel mondo circense. Adorava la sua prestanza fisica e voleva che anche gli altri l'apprezzassero, ecco. Di certo avrebbe potuto fare qualcosa di buono nella sua vita se non si fosse fatto trascinare da questa sua indole violenta fin da giovanissimo. E poi Anatoly non aveva un buon rapporto con il gentil sesso, nel senso che pare avesse difficoltà nel piacere le donne. Quindi il fisicaccio non lo aiutava affatto. No, non lo aiutava perché attribuirà a lui stesso la cosa, ma probabilmente questo era, anche alla sua bassa statura. Perché era davvero piccolino, infatti era alto un metro e cinquanta. Questo diventerà il pretesto per essere schernito dagli altri. Insomma, le persone ti prendono in giro per i motivi più stupidi e questo è uno di quelli. Nel tempo continuerà ad accumulare così tanti rifiuti Anatoly da arrivare persino ad odiare tutto il mondo femminile e chi ne faceva parte. Dunque sotto la sua amarezza e insicurezza riuscirà a inserirsi comunque bene nei circoli sociali del tempo. Perché a parte la difficoltà con le donne, ci sapeva fare con le persone, riusciva a stare insieme agli altri, ecco. Era difficile dunque immaginarsi un individuo così carismatico ed educato però che nutrisse intenti a dir poco malvagi. Perché arriviamo di certo lì. In qualche modo queste qualità le sfrutterà per perpetrare i suoi intenti criminali. Ho detto male in qualche modo queste sue qualità le sfrutterà per perpetrare i suoi intenti criminali. Infatti ad appena 17 anni Anatoly aggredirà un assistente scolastico che avrebbe rifiutato le sue avance. Era il maggio del 1975 ma la cosa verrà fuori solo anni e anni dopo pensate. Perché tal'informazione verrà fuori dopo? Eh beh la risposta è perché ovviamente la vittima era troppo intimidita da Anatoly per denunciare la cosa. Ci sarà poi anche però un'altra donna aggredita da Anatoly ma anche lei tacerà la cosa. Ed è questo che aiuta i criminali ad andare avanti nelle loro azioni. Anatoly si sentiva sicuro a questo punto, forte. Poteva fare ciò che voleva con le persone. Infatti arriverà non molto tempo dopo la terza vittima. Tuttavia gli darà del filo da torcere perché lo fronteggerà e poi dopo andrà per fortuna questa volta a denunciare la violenza subita da parte dell'uomo. Ecco perché Anatoly sarà arrestato questa volta e imprigionato per ben sei anni e sarà mandato in un istituto correzionale nella Repubblica di Comey dove ovviamente troverà personaggi violenti proprio come lui che cercavano di imporsi al suo modo di fare. Tuttavia lui è molto forte ricordate? Dunque saprà come difendersi ma almeno non potrà più prendersela con persone innocenti. Ha trovato insomma pane per i suoi denti. Ma Nagy è anche molto astuto e cercherà di mantenere un basso profilo con chi dirigeva l'istituto tanto che riuscirà a lasciare la struttura appena quattro anni dopo per buona condotta. E questa buona condotta praticamente è male per tutte le vittime che arriveranno dopo. Così sarà trasferito in un insediamento di lavoratori in un villaggio chiamato Ciccino come ricompensa ovviamente per il suo buon comportamento. Ebbè certo. E gli verrà poi anche concessa la libertà nel 1979 mentre ancora stava scontando la sua pena. Ma perché non gli lasciano in galera fino alla fine? Perché fanno i bravi bambini? E infatti non hanno capito che una volta fuori tornano a fare quello che facevano? Ad un certo punto comunque Anatoly si innamorerà e lo farà nei confronti di una certa Alaborisanova. Un personaggio pubblico, una cantante di origine russe conosciuta e adorata da migliaia di fan. Beh, ha trovato una brava ragazza allora. Eppure nonostante l'apparenza fosse una persona irraggiungibile data ovviamente la sua notorietà, Nadia deciderà che doveva a tutti i costi guadagnarsi la sua ammirazione. Tuttavia quell'innamoramento presto si trasformerà in un'ossessione. Ossessione che porterà ovviamente Anatoly a compiere un crimine. Guarda che strano. Infatti toglierà la vita a una donna mentre stava ancora scontando la sua pena. Sì, un ricidivo di certo allora. Lo ricidivo avverrà il 30 gennaio del 1979 Paciora, una città situata a 29 miglia da Cicchicino. Ma perché questo individuo sarà lasciato libero di circolare nonostante stesse ancora scontando una pena detentiva? Perché ai detenuti veniva data la possibilità di visitare la città durante il weekend per fare degli acquisti. Ed è proprio in queste trasferte alla stazione di Paciora che Anatoly noterà una donna che somigliava molto alla sua cantante. Ecco perché abbiamo parlato di ossessione da parte di Anatoly nei confronti della cantante. Lui l'aveva dunque avvicinata in stazione e l'aveva invitata ad andare via con lui. L'invito, nonostante fosse stato a quanto esplicito, troverà il consenso della donna che a questo punto deciderà di seguire questo perfetto sconosciuto. Ma ricordiamoci che Nagiev è un bell'uomo, dalla prestanza fisica dunque probabilmente la donna il cui nome è Olga Damianenko era stata tratta da lui. Non c'è niente di male. Eh sì, ho capito, esci con un perfetto sconosciuto però non sai chi ti trovi dall'altra parte. Ha trovato un assassino. Quella è sfiga. Ma una volta giunti nell'appartamento la ucciderà con un coltello pugnalandola più e più volte senza mostrare alcuna pietà. I colpi inferti saranno addirittura 30 e poi lascerà lì il suo corpo. Il corpo della donna verrà ritrovato tre giorni dopo il delitto ma la negligenza delle indagini che non permetterà di trovare il colpevole. Nagiev temerà dopo questo gesto di essere scoperto dalle autorità ma va, dovevamo dirglielo, stai tranquillo che tanto le autorità non si impegnano troppo ma quando i mesi passeranno ok, a questo punto capirà che insomma la paura gli era passata era fuori pericolo non poteva più essere preso. Ecco perché, purtroppo nel maggio del 1979 riprenderà a esternare la sua vera natura. Infatti, in un viaggio da Cicchiccino a Paciora corromperà il capotreno con una piccola somma per assicurarsi di poter viaggiare in un vagone con una donna una certa Daria Krakchenko una contabile alla richiesta di lui di stare insieme al suo rifiuto cosa farà? Nagyyev la pugnalerà due volte e poi, non contento, la strangolerà con uno sciale di seta che la donna portava sulle spalle dopo l'uccisione Nagyyev farà violenza sul suo corpo e poi adagerà la donna priva di vita sotto un sedile e cambierà vagone però prima gli porterà via anche gli orecchini pianelli d'oro della donna e... basta basta mansa insomma il corpo della donna a questo punto verrà scoperto due ore dopo quando avverrà il controllo del vagone ma nonostante il capotreno avesse venduto lui il biglietto Nagyyev e nutrisse dubbi sull'uomo perché era stato addirittura pagato per poter avere il posto in quel vapore insieme a quella donna lui non segnalerà la cosa alle autorità beh, sicuramente perché non avrebbe potuto prendere i soldi esatto eh, bravo furbo nonostante questo le autorità saranno in grado di collegare entrambi i crimini del treno e questo perché il killer Nagyyev come abbiamo capito aveva lasciato le stesse prove su entrambe le scene del crime compresi i fluidi corporei tuttavia senza ulteriori indizi le indagini si raffredderanno così indisturbato come pochi Anatoly continuerà a scontare la sua pena e nel novembre del 1979 sarà rilasciato sulla parola giustamente fai il bravo ragazzo si vede? adesso non è più un bambino è diventato ragazzo comunque una volta fuori Nagyyev tornerà a vivere nella sua casa di infanzia per forza dove vuoi cadasse altrimenti e poi troverà anche un lavoro come proiezionista questa attività lo porterà dunque a viaggiare per il paese organizzando ovviamente proiezioni di film questo tipo di vita diciamo libero era la situazione ideale per consentire Nagyyev di essere un predatore e di poter prendere dunque a questo punto di mira tutte le donne così ogni volta le poteva sottoporre violenza ma almeno in questo caso risparmiava loro la vita successive indagini riveleranno poi che l'uomo durante i dieci mesi di questa attività avesse aggredito pensate almeno trenta donne e si crede purtroppo che lo abbia fatto anche con sua sorella tuttavia nonostante le tante violenze Nagyyev non dimenticherà mai la sua ossessione per Allah la cantante quella famosa conosciuta da tutti la cantante russa tanto che arrivato nel 1980 a quel punto era determinato ad averla a tutti i costi un giorno così prenderà il solito treno per Mosca e ai controlli risulterà senza biglietto e ancora una volta Naturi inventerà una scusa per quella mancanza dicendo al capotreno che stava andando in visita a sua madre che addirittura era malata terminale e beh ma il biglietto del treno non poteva comprarlo lo stesso e si vede che andava troppo di fretta a quel punto il capotreno impietosito dal fare molto dispiaciuto dell'uomo e considerato che la carrozza del treno alla fine era quasi vuota si lascerà convincere dietro un compenso a non segnalare la cosa e a permettere all'uomo di finire la corsa e poi ci proverà con l'ennesima donna incontrata su di un treno ad un suo rifiuto l'uomo a questo punto perderà nuovamente il controllo e tirato fuori un coltello da caccia la ucciderà purtroppo e non contento attaccherà anche la sua seconda vittima lascerà entrambi i corpi delle due donne nello scompartimento del treno e quando il capotreno procederà con i consueti controlli Anatoly si sposterà di carrozza e troverà ancora altre due donne e alla fine anche loro guarda caso moriranno per i colpi inferti Anatoly si imbatterà alla fine del treno nell'elettricista Tom Cruise tuttavia deciderà di lasciarlo andare in questo caso ovviamente l'elettricista rimarrà scioccato quando vedrà Anatoly imbrattato di tutto quel sangue si ma quanti altri passeggeri però l'avevano visto sporco di sangue pare che solo l'elettricista in questo momento anche io però gli farà sapere che non faceva del male agli uomini insomma poteva starsene tranquillo ah beh ok l'elettricista a questo punto rimarrà fermo in un angolo praticamente terrorizzato che il killer ovviamente potesse cambiare idea da un momento all'altro e tornare indietro per ucciderlo ma Anatoly non lo farà perché sarà impegnato a tornare dalle sue vittime per rubare a loro tutti i loro gioielli e fatto questo prenderà i loro corpi senza vita e li getterà dal treno in corsa sempre possibile che riesca a fare tutto questo mentre c'è insomma della gente che viaggia nel treno lui indisturbato i controllori che lo guardano fatto questo lascerà il treno per andare in una stazione successiva dunque le autorità non hanno capito che c'è un serial killer dei treni torniamo al momento in cui gli ispettori saliranno sul treno per controllarlo e troveranno il vagone imbrattato di sangue sulle prime le autorità penseranno che a commettere quegli omicidi atroci fosse proprio l'elettricista sì perché era rimasto lui sul treno talmente spaventato da portare addirittura a sospettare di lui in più l'uomo pare avesse anche gli stivali insanguinati tuttavia presto sarà scagionato perché era ovvio che non avesse compiuto lui però lui l'ha visto lo ha visto sì nel frattempo Nagyev porta avanti il suo piano che coinvolge come abbiamo capito alla cantante russa pare che l'uomo riuscirà anche ad introfularsi nei camerini della donna facendosi passare per un sofà aveva con sé anche un mazzo di rose per fortuna però l'entourage intorno alla donna e altri fan veri presenti quella sera impediranno ad Anatoli di portare a segno il suo intento criminoso qualcuno tuttavia noterà il suo strano comportamento e minaccerà di chiamare la polizia questo episodio per fortuna farà comprendere a Nagyev ad Anatoli che avrebbe dovuto tenere un pochettino il profilo basso per non dare troppo nell'occhio insomma così l'uomo tornerà alla propria casa d'infanzia e nasconderà i gioielli delle vittime e poi regalerà anche un anello di diamanti però al suo migliore amico quello che l'uomo però ovviamente non poteva sapere era che la polizia fortunatamente aveva distribuito descrizioni di quei gioielli rubati le vittime in tutti i banchi di peni in giro per il paese ovviamente con la speranza che l'assassino cercasse di piazzarli di rivenderli e quindi di trovare le sue tracce l'amico di anatoly porterà per fortuna quell'anello di diamanti da un amico gioielliere che gli dirà che quell'anello era di una donna ovviamente gioielliere aveva visto che quell'anello corrispondeva a quello che stavano cercando proprio le autorità così con una scusa lascerà l'uomo ad attendere al banco mentre alletterà invece la polizia le autorità riusciranno così ad arrestare l'amico di anatoly beh meglio che niente il suo nome Gregory Dugging e ha 25 anni lui era un residente della zona l'uomo durante l'interrogatorio dirà tutto quello che sapeva su naghi così la polizia potrà procedere con il perquisire l'abitazione di naghi bene e quando le autorità appunto arriveranno l'abitazione risulterà completamente vuota perché gli agenti troveranno la madre di anatoly che farà sapere loro che il figlio guarda caso era partito per andare a visitare un amico in una città vicina ovviamente la polizia cercherà di mettersi sulle sue tracce sarà trovato un indirizzo scritto su uno dei tacquini di anatoly l'indirizzo era quello della sua cantante la sua ossessione accanto a questo c'era scritto anche una maledizione forse perché ancora non era riuscito ad attuare il suo piano diabolico nei confronti della povera donna il 12 settembre del 1980 finalmente le autorità riusciranno a raggiungerlo e a metterlo in cella l'uomo verrà lasciato con altri detenuti i quali subiranno la sua ira uno rischierà addirittura di rimanere invalido per le percoste ricevute da Naghi e un altro perderà addirittura un occhio insomma abbiamo capito che è un tipino con cui è meglio non scherzare questo anatoly l'uomo rimarrà in carcere mentre le indagini proseguiranno per trovare ovviamente sufficienti prove per incriminarlo tuttavia Naghi cercherà di sopraffare anche le autorità arrivando a cercare di strapparsi le manette con la bocca e riuscirà a liberarsi pensate un po' e a gettarsi da una finestra finirà a quel punto su di un tavolo ma la caduta gli causerà danni alla schiena e questo almeno fermerà la sua corsa dopo le cure del caso però anatoly se l'ha riportato alla propria cella ma non demorderà nel suo intento di averla vinta infatti infatti utilizzerà un cucchiaio rotto sembra la scena di un film per pugnalarsi allo stomaco così sarà di nuovo portato all'ospedale per ricevere le cure necessarie e ovviamente il suo intento era quello di scappare una volta giunto presso la struttura medica tuttavia lo staff dell'ospedale allertato insomma dal tipino che si trovavano davanti vigilerà costantemente il suo anatoly in modo che non potesse attuare il suo piano di fuga e arriviamo finalmente al processo il processo Nagy inizierà nell'estate del 1981 durante il processo l'uomo si figgerà pazzo per avere ovviamente come tutti possiamo arrivare a capire una condanna più leggera o uno sconto sulla pena per fortuna però i giudici non ci cascheranno nel suo tranello e la sentenza per lui sarà condanna a morte sarà trasferito a questo punto in una prigione dove già altri famigerati killer erano finiti per subire la medesima sorte ma Nagy non si darà per vinto tanto che che cosa farà riuscirà ancora una volta a scappare nel trasferimento dalla prigione al tribunale questo verrà proprio in una stazione ferroviaria abbiamo capito che ha un particolare amore per le stazioni ferroviarie e attraverso una mossa audace ovvero l'uomo scivolerà oltre un treno merci per sfuggire dalle autorità la polizia a quel punto riuscirà a rintracciare però la fidanzata di Nagy perché si era fidanzato a questo punto che risiedeva in una fattoria a Rosto ovviamente chiunque avesse visto l'uomo aveva l'autorizzazione di sparare a vista in fin dei conti la condanna a morte era già stata emessa in più era anche considerata una persona altamente pericolosa tuttavia la sua fuga si fermerà proprio alla fattoria e quando Natalie si vedrà circondato praticamente dalla polizia tutto intorno proverà ancora una volta a sparare contro di loro con un fucile a cane mozze ma presto ovviamente sarà colpito a quel punto dagli agenti e alla fine catturato i medici a questo punto riusciranno a salvarlo per portarlo diritto alla sua condanna è il 28 ottobre del 1981 quando a Natalie a soli 23 anni incredibile troverà la morte grazie a un protone di esecuzione la storia di oggi finisce qui un individuo che ha compiuto degli atti ferati e ha pagato alla fine per quello che ha fatto anche se purtroppo chi è finito sulla sua strada ha dovuto pagare con la propria vita grazie per essere arrivati anche oggi fino qui vogliamo sapere ovviamente cosa pensate di questo caso nei commenti come sempre aspettiamo di leggervi con tantissimo interesse vi ricordiamo l'appuntamento con il notturno crime che va in onda tutte le domeniche e sera alle ore 21 dove trattiamo solo casi italiani dunque non mancate neanche a quell'appuntamento vi aspettiamo noi ci vediamo al prossimo video anzi alla prossima indagine ragazzi grazie grazie ad averci seguito fino a qui le crime ve chiudono e sempre vi ricordano occhiali stranezze grazie 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 grazie